Siamo fiduciosi che può arrivare la vittoria. Dobbiamo uscire subito di questa classifica e penso che forse si parlava che questa squadra poteva fare meglio, poteva stare più su. L'obiettivo nostro è sempre stata la salvezza e dobbiamo raggiungerlo. Catania che ho visto nell'ultimo partito, un Catania aggressivo che vuole essere una squadra in attacco, determinata. Penso che le prestazioni dell'ultima partita sono state buone al di là del risultato. Penso che noi dobbiamo mettere subito la cattiveria e la determinazione per vincere questa partita. Penso che dal minuto zero tutti assieme con la gente e noi da dentro del campo dobbiamo farle capire a loro che vogliamo vincere questa partita. Penso che nel calcio può succedere di tutto, ci sono episodi. La squadra ha capito lo che vuole l'allenatore, è una squadra determinata, è una squadra aggressiva, combattiva. Penso che lo stiamo facendo bene. Alla fine non riusciamo a avere un bel risultato. Però siamo tutti consapevoli che dobbiamo continuare a migliorare tante cose, ma dopo un risultato penso che la strada sarà ancora più giusta di questa strada che stiamo facendo ora.